ciao ragazzi in questo giorno speciale voglio augurarvi buon natale a voi a tutte le vostre famiglie mi raccomando no mi raccomando non c'entra un tubo mi raccomando costruisci non mi interessa sei natale ok no dai oddio provaci ok ok ciao ragazzi in questo giorno speciale voglio augurarvi buon natale a voi e le vostre famiglie ciao